Buonasera a tutti, buonasera caro saluto a Tiene che ci dona in questi anni questa bellissima piazza che è un po' una bomboniera, una chicca in questa città. Abbiamo anche quest'anno la gioia di essere qui, di riproporre questo evento, questo concerto gospel, un'invasione di speranza che da diversi anni portiamo come chiesa evangelica qui di Tiene, portiamo assieme alla chiesa evangelica di Verona in varie piazze, in vari teatri del Veneto e del Triveneto. Siamo felici che siate qui con noi, vi diamo un caloroso benvenuto. Il tema di questa serata è l'arcobaleno di Dio. Il tema di questo concerto sentiremo diversi canti, gospel in italiano che portano un messaggio, un messaggio di speranza, un messaggio d'amore. Sentiremo anche alcune testimonianze, alcune riflessioni che brevemente possono darci l'opportunità di riflettere attentamente. Pensavo in questo periodo che abbiamo attraversato, che speriamo di essere verso la fine. Intanto mi scuso per le prescrizioni, però noi siamo costretti, non è che sono richieste da noi, ma purtroppo per le leggi vigenti siamo costretti a tutto questo controllo, questo. Solitamente la nostra open invasion era libera senza nessuna richiesta, però siamo felici che malgrado tutto, questo anno e mezzo che stiamo attraversando, molto difficile, confidiamo nel Signore che siamo verso l'uscita, verso la fine del periodo più difficile. Forse questo tema, l'arcobaleno di Dio, è proprio un tema adatto. Di solito nel cielo vediamo spuntare l'arcobaleno dopo una forte tempesta, un forte temporale. Noi preghiamo il Signore che siamo verso la fine, che siamo all'uscita di questa tempesta globale, mondiale, di questa tempesta, buonasera Sindaco, che ha investito purtroppo in maniera molto severa il nostro paese e speriamo che siamo veramente verso l'uscita di questo periodo difficile. So che tante famiglie hanno sofferto, ancora parecchi stanno avendo difficoltà e per questo siamo qui per portare una parola di speranza alla città di Tiene. Visto che nel frattempo è arrivato il nostro Sindaco, il Dottor Casarotto, gli do intanto il benvenuto da parte di tutti noi. Signor Sindaco, una parola di saluto, vuole darcela prima che iniziano i giovani a cantare? Gli diamo un applauso di benvenuto al nostro Sindaco. Intanto saluto il pastore Mauro perché è un amico, una persona veramente speciale e la ringrazio di avere anche quest'anno organizzato questa manifestazione che se vogliamo è un po' diversa dalle altre. Credo sia rimasta un po' l'unica che riusciamo a fare in piazza in cui si cerca anche di mettere insieme veramente quella che è la lode del Signore. Ecco, io credo veramente che ne abbiamo bisogno soprattutto vedendo quello che sta succedendo nella nostra società ultimamente. Devo dire che il lockdown, il problema che abbiamo avuto a causa della pandemia a volte ha unito ma a volte a volte ha disunito, a volte ha reso le famiglie più forti ma molto spesso ha reso le famiglie più fragili. Posso dire come Sindaco che purtroppo abbiamo assistito a certe famiglie che sono scoppiate purtroppo e questo non è un bel segno. E poi sappiamo anche la violenza che molte volte c'è in famiglia, sappiamo la violenza che molte volte c'è per un amore sbagliato, è inutile che ce lo nascondiamo. Il discorso dei femminicidi è una piaga veramente terribile. Quindi credo che tutti insieme dobbiamo ritrovare quei valori, quegli ideali che anche la parola di Dio e la fede ci può aiutare a trovare. Oggi stiamo perdendo quei valori. Oggi, pastore Mauro, sono preoccupato perché vedo una società che si sta disgregando in alcuni aspetti. Quindi è importante che ci siano questi momenti, è importante che cerchiamo di riscoprire quelli che sono i valori che contano nella vita. Ecco, molte volte cerchiamo invece altri valori, cerchiamo il successo, cerchiamo il potere, cerchiamo di imporci agli altri. Per carità, l'ambizione è anche una dote, non è solo un difetto. Se è fatta però al servizio degli altri, se mettiamo i nostri talenti al servizio degli altri. Ecco, questo è il messaggio che vorrei dare. Quindi abbiamo bisogno veramente tutti di amore, di fraternità, di aiutarci a capire e a superare insieme i problemi. Ecco, quindi se vengono questi momenti e anche questi momenti sono di aiuto per realizzare una società migliore, benvengano e grazie per esserci. Io ci sarò, ci sarò sempre finché posso esserci, finché il Signore mi darà anche la salute per andare avanti. e dobbiamo veramente insieme lavorare perché i valori che stiamo perdendo riusciamo a ritrovarli. Riusciamo a riprendere quello che è veramente un convivere civile, ma soprattutto anche un convivere tra persone che sanno rispettare l'altro, sanno capire che prima di tutto anche la mia libertà si ferma, dove inizia quella dell'altro. Questo vale anche per quanto riguarda, per dire no, l'invito che io faccio a tutti di vaccinarsi, perché io onestamente con tutto rispetto per tutte le persone non capisco chi mette in pericolo la vita degli altri non vaccinandoci. Dopo se uno ha dei problemi che non può farlo è un altro discorso, ma altrimenti credo sia un atto d'amore anche quello. Un atto d'amore verso gli altri, verso la libertà degli altri, verso la capacità di capire che io per primo attraverso la vaccinazione rispetto gli altri e rispetto anche me stesso. Ecco, questo è il mio augurio e adesso mi siedo qui volentieri ad ascoltare il vostro concerto che è sempre piacevole e bello. Tra l'altro la giornata è ancora abbastanza tiepida, quindi pensiamo di riuscire a stare insieme un paio d'ore ben volentieri. Grazie a tutti voi. Grazie Sindaco, grazie. Grazie a tutti. 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 E le paure non ci sono più, no niente è impossibile per te. Nella lotta spererò, nella guerra non cadrò, ogni ombra svanirà. L'amore tuo canterò, per sempre ti lo verò. Il gigante cadrà, il monte va giù, le canne nel Gesù hai spezzato tu. Le voci e le paure non ci sono più, no niente è impossibile. Il gigante cadrà, il monte va giù, le canne nel Gesù hai spezzato tu. Le voci e le paure non ci sono più, no niente è impossibile per te. Più grande sei, più alto sei, più forte sei, Gesù. Hai vinto tu, sono libero, per sempre regni Gesù. Più grande sei, più alto sei, più forte sei, Gesù. Il gigante cadrà, il monte va giù, le canne nel Gesù hai spezzato tu. Le voci e le paure non ci sono più, no niente è impossibile. Il gigante cadrà, il monte va giù, le canne nel Gesù hai spezzato tu. Le voci e le paure non ci sono più, no niente è impossibile per te. No niente è impossibile. Sai perché il peccato non ha più potere? Sai perché la notte adesso fugge via? Su ogni volto c'è la luce del perdono, Gesù vive. Sai perché cantiamo anche quando è dura? Sai perché la forza non ci lascia mai? Ogni cuore tiene stretta una speranza, Gesù vive. Gloria al Re, Gesù vive. Gloria al Re, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in me. Alleluia, vive in me. Alleluia, vive in me. Sai perché in noi non manca mai coraggio? Sai perché la morte non ci fa tremare? La ragione, la ragione, la ragione è la sua resurrezione. Gesù vive. Gesù vive. E vive in me. Gloria al Re, Gesù vive. Gloria al Re, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in me. Gloria al Re, Gesù vive. Gloria al Re, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in me. La sua tomba è vuota, il cielo grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte, ha vinto il Re dei Re. Il mondo dovrà udire, la chiesa grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte, ha vinto il Re dei Re. La sua tomba è vuota, il cielo grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte, ha vinto il Re dei Re. Il mondo dovrà udire, la chiesa grida gloria. Dov'è il tuo dardo morte, ha vinto il Re dei Re. Gloria al Re, Gesù vive. Gloria al Re, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in me. Gloria al Re, Gesù vive. Gloria al Re, vive in me. Gloria al Re, gloria al Re. Gloria al Re, non è morto. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Alleluia, vive in me. Gloria al Re, non è morto. Bene. Una prima pausa di riflessione. Mentre sentivo le parole del Sindaco, pensavo che ci eravamo messi d'accordo, che lui sapesse un po' il tema di questo concerto. le testimonianze che ora ascolteremo la prima di queste due testimonianze. Le testimonianze di questa sera saranno proprio due coppie a testimoniare, a venire a dire come la misericordia, l'aiuto di Dio, la speranza che Dio mette nel nostro cuore, trasforma la vita familiare, fonda una famiglia nel Signore. Quello che diceva il Sindaco purtroppo è la verità. Io amo dire che non sono le pandemie, i problemi, le malattie che cambiano la nostra situazione, ma è la nostra condizione che si manifesta per quello che è delle volte in maniera più chiara davanti a momenti di crisi, a momenti di difficoltà. E quindi vogliamo anche sentire, la prima coppia è una coppia giovanissima, che hanno da qualche parte qui una bimba piccolissima, Salvatore e Manuel, che cominceranno a darci la loro testimonianza. Prego. Premetto che sono un po' agitata, però è giusto che ringrazio il Signore. Allora, innanzitutto io mi chiamo Emanuele e lui è mio marito Salvatore. Allora, vi raccontiamo un po' brevemente quello che è per noi Dio. Allora, io praticamente comincio a credere in Dio all'età di 16 anni e credere in Dio, avere fede in Dio, per noi evangelici, è praticamente vivere ogni giorno con lui, ogni cosa che facciamo, ogni cosa che desideriamo, che vorremmo, ogni sogno, ogni gioia, ogni sofferenza, la mettiamo prima davanti a Dio. Così è stato anche con la conoscenza con Salvatore. Non ho mai pensato, né prima di avere fede in Dio né dopo, che se era Salvatore quello giusto, bene, se no ne avrei trovato un altro e così via dicendo. Ho sempre ricercato, diciamo, il Principe Azzurro e ovviamente da adolescente così la mia preghiera era questa. Dicevo, Signore, quello che è nella Tua volontà, io so che se ti rispetto, che se faccio quello che Tu vuoi, Tu mi puoi benedire. E ringrazio il Signore perché abbiamo appunto pregato tanto prima di iniziare un fidanzamento e il Signore ci ha risposto, abbiamo atteso la sua risposta, il Signore ci ha benedetto grandemente. Nel giro di quattro anni siamo riusciti con dei sacrifici a organizzare un matrimonio stupendo. È stata una giornata molto benedetta e da lì è iniziata la nostra famiglia. Ogni giorno, appunto, come dicevo prima, per noi vivere in Dio è ogni giorno consacrato a Lui, dedicato a Lui. e quindi ogni nostro progetto lo presentavamo al Signore. Se non era la sua volontà andavamo avanti, se non era la sua volontà noi ci fermavamo. Ringrazio il Signore perché ci ha donato una bambina e ci sta portando avanti tutti i giorni e sappiamo che se siamo benedetti è perché amiamo il Signore e lo rispettiamo. Amen. Buonasera a tutti. Per chi non mi conosce io mi chiamo Salvatore e sono giovane della comunità di Tiene, evagerica. Io voglio ringraziare il Signore questa sera, voglio partire un po' di anni indietro. Prima di conoscere il Signore io ero giovane, diciamo, magari si dice, giovani di oggi come fanno ad essere tristi. Io ero uno di quei giovani che era triste. Ero triste perché la mia vita era incompleta, era incompiuta. Non riuscivo ad essere soddisfatto per causa magari delle mie scelte sbagliate. Purtroppo nella mia giovane adolescente fino alla giovane età ho sempre fatto delle scelte molto sbagliate e me le sono portate avanti per tanti anni. Uno dei valori che mi è sempre mancato nella vita è stato una cosa in particolare. Questo incontro di questa sera è iniziato con una parola, amore. E questo è uno dei valori che è venuto a mancare purtroppo nella mia vita. Io per un lungo periodo, quando incontravo questa parola davanti a me, sentivo odio, sentivo qualcosa che non mi apparteneva. Perché guardavo la mia famiglia, guardavo quello che mi era capitato indietro e dicevo no, è impossibile, l'amore non esiste. E questo mi ha portato un po' a non relazionarmi con altre persone, mi ha portato un po' a chiudere perché non credevo affatto in questa parola, non credevo nel matrimonio. Ma nell'anno 2014, quando mi è stato parlato di Gesù e ho aperto il mio cuore a Gesù, qualcosa è successo, è cambiato qualcosa nella mia vita. Se devo parlare di un Dio che ha donato il suo figliolo con amore, per chi? Per me, per me peccatore. E già da lì questa parola iniziava a risuonare di nuovo nella mia vita. Quando ho accettato Gesù nella mia vita, il Signore mi ha parlato fortemente, perché il nostro Dio è un Dio che parla. E il Signore mi ha detto, mi ha detto, tu credi e io veramente posso fare qualcosa di meraviglioso nella tua vita. Da lì ho iniziato a pregare, ho iniziato a dire, Signore, io sono qua, voglio aprire il mio cuore davanti a te, fai tu quello che hai nella tua volontà per la mia vita. E da lì a poco il Signore ha fatto veramente qualcosa di meraviglioso nella mia vita. La mia famiglia era separata da anni e il Signore l'ha ricostruita, l'ha riunita. Da lì a poco ho conosciuto Manu, come Manu diceva prima, abbiamo pregato e ho riscoperto di nuovo quel sentimento che per tanti anni è mancato nella mia vita. Ho riscoperto di nuovo cosa vuol dire amare, cosa vuol dire provare qualcosa per una persona. Oggi siamo una giovane coppia, siamo sposati da due anni, io è vero, a mio fianco ho mia moglie, ma quando guardo mia moglie dico, è vero che è mia moglie, ma prima di tutto è una sorella in Cristo, ma ancora di più è un dono, è un dono che mi ha fatto il Signore. E oggi giorno siamo una famiglia consacrata al Signore e la nostra vita dipende dal Signore, la nostra vita è costruita dal Signore. Abbiamo detto già prima di sposarci che il nostro unico obiettivo è quello di servire il Signore. E da quando ci siamo sposati nel 2019 ad oggi, questo non è mai mancato nella nostra vita. Veramente vediamo ogni giorno che se Dio è accento della nostra vita, veramente la nostra famiglia può essere una famiglia benedetta dal Signore. E vi volevo lasciare con un verso che troverete nei salmi, provate e vedrete quanto il Signore è buono. Nella vita ci sono tante sofferenze, è vero, ma se veramente affidiamo la mano del Signore, anche come famiglie, come marito, come moglie, come famiglia con i figli, veramente potremo vedere quanto il Signore è buono. Che Dio vi benedica. Che Dio è buono. 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 Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me Chi Lui libera, libero sarà Sono figlio suo, si è così Nella casa sua per me posto c'è Sono figlio suo, si è così Nella casa sua per me posto c'è Sono figlio suo, si è così Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me Oh che Dio dice di me Oh che Dio dice di me Si che Dio dice di me Chi Lui libera, libero sarà Sono figlio suo, si è così Sono figlio suo, si è così Nella casa sua per me posto c'è Sono figlio suo, si è così Chi Dio dice di me Tu sei la speranza in mezzo al caos, sei la voce che mi chiama ognuno. Sopra ad ogni bugia tu sei la spada mia che sulla notte vincerà. Il tuo nome è forza perché stanco libertà, per l'affranto grazia perché è perso nell'errore. Nome di vittoria nel conflitto gloria, per l'afflitto c'è gioia e potenza nel tuo nome. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. So bene che sta scritto a bifeti, che la tua parola non fallirà. So bene che in ogni situazione si lo so potente colui che interverrà. Sopra ad ogni bugia tu sei la spada mia che sulla notte vincerà. Il tuo nome è forza perché stanco libertà, per l'affranto grazia perché è perso nell'errore. Il tuo nome è forza perché stanco libertà, per l'afflitto c'è gioia e potenza nel tuo nome. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Tu sei luce in mezzo al buio, tu sei calma, sto al sicuro. Santo Spirito riempie ogni cuore. Scegli e parla la tua chiesa, te a due piedi stai in attesa. Santo Spirito, regna su di noi. Il tuo nome è forza perché stanco libertà, per l'affranto grazia perché è perso nell'errore. nome di vittoria e conflitto gloria, per l'afflitto c'è gioia e potenza nel tuo nome. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Ecco il mio cuore, mio re, ha poco da offrire, ma io so che per la tua grazia fiorirà. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. Il tuo nome è forza, il tuo nome è forza. E cammina tra di noi Sei tu che doni nuovo amore Salvezza all'uomo che muore Vieni e risvegliaci Dio risvegliaci Dio risvegliaci Ogni tempesta va via Tu sei la mia pace, la mia libertà Rifugio e forza trovo in te A tuo fianco nella valle oscura Tu non dovrò temer mai No, 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 no Tu che cambi il mio dolore e gioia Sei tutto, certo che te Infondi il fede in ogni cuore Accendi un fuoco, Signore E cammina tra di noi Sei tu che doni nuovo amore Salvezza all'uomo che muore Vieni e risvegliaci Infondi il fede in ogni cuore Accendi un fuoco, Signore E cammina tra di noi Sei tu che doni nuovo amore Salvezza all'uomo che muore Vieni e risvegliaci Dio risvegliaci Risvegliami, Signore Da gioia, gioia al mio cuore 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 Hai messo un canto in ogni cuore Acceso un fuoco, Signore Tu, tu cammini tra di noi Sei tu che doni nuovo amore Salvezza all'uomo che muore Oh, si risvegliami, Signore Oh, si risvegliaci Hai messo un canto in ogni cuore Io risvegliaci Dammi gioia, sì Risvegliami, Signore Da gioia, gioia al mio cuore Risvegliami, Signore Da gioia, gioia al mio cuore Acceso un fuoco Da gioia, gioia al mio cuore Risvegliami, Signore Da gioia, gioia al mio cuore Risvegliami Sono senza fiato solo ad ascoltarli Quindi li lasciamo adesso respirare un attimo Prendete un po' di fiato Nella prima testimonianza abbiamo sentito Una coppia giovanissima Ora la seconda testimonianza è una coppia giovane Matteo e Carmelina Diamo un applauso di benvenuto, di incoraggiamento E ci racconteranno proprio perché vogliamo Idealmente farvi vedere come questo arcobaleno di Dio Può risplendere sopra la tua vita Chiunque tu sia Qualunque sia stata la tua vita fino a oggi Qualunque situazione dovrai affrontare Qualunque tempesta si abbatta sulla tua vita, sulla tua famiglia Sentiremo proprio da Matteo e Carmelina che Magari essere una famiglia cristiana non vuol dire non attraversare mai difficoltà Ma trovare forza come abbiamo sentito cantare in colui che è la forza Pace del Signore Mi chiamo Matteo, ho 47 anni E magari un po' dall'accento potete anche capire che le mie origini non sono proprio venete Seppure la mia discendenza è veneta Siamo provenienti dalla Sicilia Da tantissimi anni che siamo qua, da quando ero bambino E come diceva prima il pastore Anche noi abbiamo una famiglia Una bella famiglia Grazie a Dio, lei e mia moglie Abbiamo due bellissime ragazze Una di 24 anni Una di 16 anni E vogliamo veramente ringraziare il Signore Oggi per essere qui Per poter dire quello che il Signore ha fatto nella nostra famiglia Come diceva prima La coppia che ci ha preceduto Anche noi abbiamo conosciuto il Signore Ci siamo affidati al Signore per anche iniziare questo bellissimo percorso Che è il matrimonio E iniziarlo nella grazia e nella volontà del Signore E quando sono passati un po' di anni E sembrava tutto bello, tranquillo Rose e fiori Sapete erano gli anni buoni del Veneto, si diceva Gli anni che l'economia andava Il lavoro funzionava Ogni cosa sembrava andare né più né meno di una famiglia normale Che vive le proprie giornate E' successo che un giorno La nostra prima figlia La più piccola All'epoca più piccola Di 10 anni Gli avevano diagnosticato un cancro alla testa E sapete Tutta quella bella favola In un attimo E come è crollata Voglio scendere nei particolari Però posso dirvi che Qualcosina, sì voglio dirvela La sera che E' il pomeriggio che ci hanno dato questa notizia Siamo andati a casa Di amici Amici che era il mio pastore E la propria moglie Cristina E io non credo di aver pianto così tanto nella mia vita Ma non tanto Per la situazione Per la notizia Perché mi sembrava che qualcosa era cambiato Ed è veramente successo così Qualcosa si era rotto Qualcosa In quel periodo anche il lavoro iniziava a vacillare Eravamo alla fine degli anni 2000 2008, 2009 Quello che è successo è che Nell'ospedale stesso non volevano darci la bambina E io li ho pregati proprio Che quella sera mi dessero mia figlia Per poi riportarla l'indomani mattina Sapete la situazione era molto grave Non era per niente facile Anzi era un po' sfuggita di mano Anche ai dottori Per varie diagnosi sbagliate E tutto quello che sembrava bello In un attimo si era distrutto Ho pianto tanto quella sera E quando sono arrivato a casa Ero seduto sul divano E pregavo il Signore Dopo che come vi ho detto Era stato a casa Della famiglia del pastore Ci avevano esortato Ci avevano confortati Ci avevano consolati E sicuramente anche loro Insieme a tutta la mia chiesa La chiesa di Tiene Si sono uniti in preghiera Per quello che ci stava succedendo E quella sera mi ricordo sul divano Ho sentito dentro di me forte Di prendere la Bibbia E quasi quasi non volevo Come se mi aspettassi la risposta Che dovevo venire da parte di Dio E non volevo quasi sentirla Per paura che la risposta fosse qualcosa di brutto Ho preso la Bibbia E il Signore mi ha indicato il Salmo 37 Dove questo Salmo parla Di cose belle Si utilizza questo Salmo Perché c'è un versetto Dove dice che il Signore Ci darà quello che desideriamo Ma poi c'erano delle parole Un po' che hanno scavato in profondità Nel mio cuore Le parole che dicevano Tu aspettalo in silenzio E sapete Veniva da gridare Veniva da dire tante cose Era un periodo Non voglio soffermarmi solo a questo Ma è stato un periodo brutto Un periodo dove Il lavoro non funzionava più Le cose non andavano bene Per via del lavoro Si erano create delle situazioni familiari Veramente difficili La Chiesa ci sosteneva Ma era un peso enorme E quel momento lì Quella parola Mi ha dato Che nella Bibbia Quella parola mi ha dato Tanto conforto Tanto conforto Perché se Dio mi dice Di aspettarlo Lui arriverà Lui arriverà Abbiamo passato questa battaglia Che è durata All'ospedale 40 giorni Ma non finisce certo in ospedale Quella battaglia Perché Ti lascia delle cose dentro Che vi posso assicurare Adesso quella ragazza E quella lì in fondo Con la giacca chiara Panna Eccola lì Giusi Vi posso assicurare Che le cose Non sono più tornate indietro Non sono più tornate indietro Come prima Non sono più state le stesse Non voglio dire che sono brutte Sono diverse Forse migliori Adesso Dopo che le cose sono passate Posso dirvi Forse migliori Con una consapevolezza Diversa Gesù è stata La nostra guarigione Gesù è stata La nostra calma Gesù è stata La risposta Al nostro bisogno Ma Gesù ha fatto Ancora molto di più A volte Rifletto proprio Su questo termine Aspettare Vorremmo che le cose Belle Non finissero mai E le cose brutte Durassero dalla sera Alla mattina Eppure abbiamo Eppure abbiamo imparato Che nelle cose brutte L'insegnamento Che abbiamo ricevuto È stato molto più profondo E sapete cosa abbiamo ricevuto? Abbiamo conosciuto Di più Cristo Gesù Abbiamo conosciuto Di più Che quello che c'è scritto Nella Bibbia È adatto Per la mia vita Abbiamo scoperto Che crescere una famiglia Ai piedi del Signore Ha tutto un altro sapore C'è stato un versetto Che ci ha accompagnati In Matteo 7 Dove dice che Coloro che hanno Costruito La propria casa Sulla roccia Sono venuti Le tempeste I venti hanno soffiato C'è stata bufera Ma quella casa Non è crollata E io non voglio dire Che sono stato bravo Però ho scelto Ho scelto di costruire La mia casa Su quella roccia E la roccia È Cristo Gesù Ai venti hanno soffiato Abbiamo tremato Abbiamo avuto paura Certo che ce l'abbiamo avuta Ed essere cristiani Certo come abbiamo sentito Non significa essere immuni Ma significa che nella tempesta Gesù è stato Nella nostra famiglia L'abbiamo sentito vicino L'abbiamo sentito In una chiesa Che ha pregato per noi E che è stata stretta a noi Come fosse famiglia Come fossimo tutti stretti Dentro una difficoltà E Signore grazie Perché oggi posso guardare Mia figlia Posso guardare I miei fratelli E insieme possiamo Ringraziare il Signore Gloria a Dio Mi chiamo Carmelina Sono sua moglie E voglio continuare La nostra testimonianza Nel Signore Proprio per dare gloria a Dio Perché come accennava Mio marito Per quello che è successo Nella nostra casa Per mia figlia Signore ci ha dato grazia Di riaverla Ma posso dirvi che Sono rimasta distrutta mentalmente E io ringrazio il Signore Perché ho detto Signore Tu mi hai dato mia figlia Mi hai dato questa gioia Questo miracolo Mi l'hai ridato un'altra volta Però pregavo il Signore Perché dicevo Signore Fai un altro miracolo Nella mia vita Perché mentalmente Non avevo la forza Di andare avanti Io ringrazio il Signore Perché Dio mi ha Mi ha ridato di nuovo Quella forza Che avevo perso Vi dico questo Perché a volte Magari ci sono Situazioni che Possono andare a buon fine Magari no Però Quello che rimane Il dolore dentro E la sofferenza La paura Che c'è nella nostra mente Che rimane E Dio può fare anche questo Io dico sempre Che questo è un miracolo Perché solo Dio Può dare quella forza E quella pace Per poter andare avanti E ricominciare da capo Passati due anni Passati due anni Facendo delle visite Hanno scoperto anche a me Un cancro a seno Nell'arco di un anno Ho fatto tre interventi Ed è dura Quando magari un dottore Si presenta E Da queste notizie Io dico Signore grazie Che ho conosciuto Il Signore All'età di 18 anni Ho imparato a conoscere Lo leggendo La parola di Dio Perché Proprio nella parola di Dio Ho trovato dei versi Che mi hanno dato La forza Di andare avanti E mi hanno insegnato Ad affidarmi a Lui In ogni situazione Sia Quando avevamo momenti belli E sia Quando sono arrivati In momenti brutti Io posso dire Ancora questa sera Gloria a Dio Che Gesù È stato sempre Al nostro fianco Che Gesù Mi ha accompagnato Anche nei momenti bui Che Gesù Mi ha accompagnato Anche quando ero In una stanza D'ospedale Da sola Che Gesù Mi ha accompagnato Anche quando sono uscita Che sono riuscita A superare Le difficoltà E quando ero A casa da sola Che mi ritrovavo Poi ad affrontare Magari Le controindicazioni Delle cure La paura Che rimane Come dicevo Però ringrazio il Signore Perché come Dice nella sua parola Un verso della sua parola C'è scritto Non temere Perché io ti ho riscattato Ti ho chiamato per nome Tu sei mio Quelle parole Sono state sempre Forte nel mio cuore Perché Anche in quei momenti bui Ho sempre pensato Che non ero da sola Ma che io Appartenevo a Gesù E che Gesù Era al mio fianco E non era solo Frutto della mia mente Ma era un qualcosa Di tangibile Nella mia vita Perché sentivo La sua presenza E sentivo Quella forza Che veniva dentro di me Che mi dava la spinta Di nuovo Di andare avanti E di ricominciare Quando sembrava Che tutto stava Finendo Dopo dieci anni Facendo sempre I controlli annuali Nel 2019 Mi hanno Riscontrato Un altro Cancro Sempre al seno E Devo dirvi Che è stato Un po' difficile Per me Però ho detto Signore Tu sei stato Colui Che mi ha Accompagnato Fino adesso Sicuramente Che non mi abbandonerai Neanche adesso L'unica cosa A volte Non ci sono Neanche parole Quanto magari Uno si trova Davanti A queste Notizie L'unica cosa Che dicevo Nella mia mente Signore Abbi pietà di me Abbi pietà Della mia famiglia Dacci la forza Di affrontare insieme Quest'altra difficoltà Perché Di sicuro Ero Nella mia vita Sono sempre stata sicura Da quanto che conosco Il Signore Di questo Che l'amore di Dio L'amore profondo Di Gesù Ci ha sempre portato avanti E non ci ha mai abbandonato E non l'avrebbe mai fatto E Ho rifatto Di nuovo L'intervento E Grazie a Dio È andato tutto bene Uscendo Dall'ospedale E E' successo Un crollo Dentro Di me Nella mia mente Ho avuto proprio Un crollo Un crollo Che quando La mattina Mi svegliavo È come se io Avrei dato La mia vita Un tempo Pensavo che Già per me Era finita Perché ho detto È successo la prima volta È successo la seconda volta Ci sarà magari La terza volta Perché devo Andare avanti È come se Mi stessi arrentento Però Mentre la mia mente Pensava a questo Che purtroppo Siamo Umani E soffriamo Come tutti Magari Chi ci sta ascoltando In questo momento Ha passato Delle sofferenze Come me L'unica differenza È che Confidare in Gesù È quello Che ti dà la forza Di andare avanti Come l'ha dato a me Come l'ha dato Alla mia famiglia E mentre Magari con la mia mente Dicevo Mollo Mollo tutto Cioè mi arrento A me stessa Perché ho detto Inutile andare avanti Per poi ritrovarsi Sempre nella stessa Situazione Però dentro di me Però dentro di me Dentro il mio cuore C'era qualcosa C'era un qualcosa Che mi spingeva La parola di Dio Signore Chiedendo aiuto Signore è arrivato È arrivato in tempo Donando ristoro Alla mia mente Donando di nuovo La forza Alla mia mente E trovando di nuovo In Lui La gioia Di andare avanti Che se oggi Adesso Magari Mi dici Come ti senti Sei felice Io ti dico Sì Sono felice Nel Signore Perché so Che la nostra vita La mia vita È nelle sue mani E quello che mi ha portato avanti Fino adesso È stato Lui E voglio andare avanti Con questa speranza Fiduciosa in Lui Che Ogni quavvolta Vado in Lui Anche col pensiero Ma Lui ci sta ascoltando Lui sa dove mi trovo Sai cosa sto soffrendo So di cosa ho bisogno Lui conosce ogni cosa di me E questo mi dà la forza La fiducia C'è la speranza Di andare avanti Voglio Semplicemente Concludere Ringraziando il Signore Per la nostra famiglia E di certo Abbiamo La consapevolezza Che siamo Una famiglia particolare Il Signore Ci ha benedetti Ma ci ha anche graziati Probabilmente qui In mezzo a questa piazza C'è qualcuno Che ha perso Un familiare Che ha perso Un caro Perché probabilmente Per la stessa Malattia Non ce l'ha fatta Noi Oggi vogliamo dire Che ringraziamo il Signore Perché ci è stato vicino L'altro Il miracolo è un dono Il Signore È la nostra roccia Il dono Ringraziamo perché Ce l'ha fatto Anche non meritandolo Signore Il Signore interviene Interviene in un modo Il figlio è stato il lunedì Il figlio è stato un figlio di 21 anni È stato schiacciato sotto un rullo Ed è morto sul colpo Voglio dirvi Questa famiglia Quest'altra famiglia Che non è qui Si sono trasferiti Nel loro paese Nel Burkina Faso E servono il Signore Ancora oggi Nel Burkina Faso Non sappiamo quello che accadrà E Dio non ci assicura Che su questa terra Le cose andranno sempre risolte Ma ci assicura Che Lui sarà sempre Al nostro fianco Sarà sempre al tuo fianco Se tu lo vorrai Dio è Dio Non importa la circostanza Sempre sarà Dio La mia fede Non dipenderà Da ciò che tu fai per me Ho imparato Ad adorarti Per ciò che sei Solo tu insieme a me L'autorità Sontanto a te A Dio Sia Le note Se Dio farà Egli è Dio Se non farà Egli è Dio Se la porta aprirà Egli è Dio Ma se chiuderà Sarà sempre Dio Nella malattia Egli è Dio Se guarito sarò Egli è Dio Se tutto andrà bene Egli è Dio Se non va bene Rimane il mio Dio La mia fede Non dipenderà Da ciò che tu fai per me Ho imparato Ad adorarti Per ciò che sei Solo tu insieme a me L'autorità Soltanto a te A Dio Sia La note Se Dio farà Egli è Dio Se non farà Egli è Dio Se la porta aprirà Egli è Dio Ma se chiuderà Sarà sempre Dio Nella malattia Egli è Dio Se guarito sarò Egli è Dio Se tutto andrà bene Egli è Dio Se non va bene Se non va bene Rimane il mio Dio Non lo adoro Per ciò che Lui fa Io lo adoro Per ciò che Gli è Egli è Dio Se non farà Egli è Dio Se non farà Egli è Dio Egli è Dio Se la porta aprirà Egli è Dio Ma se chiuderà Sarà sempre Dio Nella malattia Egli è Dio Se guarito sarò Egli è Dio Se tutto andrà bene Egli è Dio Se non va bene Rimane il mio Dio Egli è 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 Dio Tu mi hai cercato negli abissi Quando valori non erai me E mi hai chiamato a vivere Quando la vita non era in me Invocherò il tuo nome, Dio Lo sguardo mio terrò su te La fede mia in te soltanto riporò Perché sono tua e tu sei mio Se nelle acque più profonde Da solo Dio mi troverò La grazia tua mi salverà Lo stesso sei E non fallirai Gesù Invocherò il tuo nome, Dio Lo sguardo mio terrò su te La fede mia in te soltanto riporò Perché sono tua e tu sei mio Lo sguardo mio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La mia vita spenderò la tua presenza Dove forza e potenza trovo in te, oh Salvatore Se il tuo spirito guiderà i passi miei Sulle acque più profonde io potrò camminare La mia vita spenderò la tua presenza Dove forza e potenza trovo in te, oh Salvatore Se il tuo spirito guiderà i passi miei Sulle acque più profonde io potrò camminare La mia vita spenderò la tua presenza Dove forza e potenza trovo in te, oh Salvatore Trovo in te, oh Salvatore Trovo in te, oh Salvatore Se il tuo spirito guiderà i passi miei Sulle acque più profonde sulle acque più profonde Sulle acque più profonde io potrò camminare La mia vita spenderò la tua presenza La mia vita spenderò la tua presenza La mia vita spenderò la tua presenza Dove forza e potenza trovo in te, oh Salvatore Se il tuo spirito guiderà i passi miei Sulle acque più profonde sulle acque più profonde Sulle acque più profonde io potrò camminare La mia vita spenderò la tua presenza Dove forza e potenza trovo in te, oh Salvatore Invocherò il tuo nome, oh Dio Lo sguardo mio terrò su te La fede mia in te soltanto riporrò E io sono tua e tu sei mio E tu sei mio E tu sei mio E io E io E io Lascia il tuo pianto Ai piedi suoi, non c'è dolore troppo grande per lui Lascia il tuo peso, lascialo a te Senza vergogna, gli occhi alzerai Ritorna a casa, tardi non è Lascia il dolore, lascia il tuo cuore Così come sei Speranza per quanti non sperano più Vieni a gustare la grazia di Dio Riposo per quanti non riposano più Non c'è dolore troppo grande per lui Lascia il tuo peso, lascialo a te Senza vergogna, gli occhi alzerai Ritorna a casa, tardi non è Lascia il tuo cuore, lascia il tuo cuore Così come sei Così come sei Un nuovo giorno per te nascerà Non c'è dolore, non c'è dolore troppo grande per lui Lascia il tuo cuore, lascia il tuo cuore, lascia il tuo cuore, lascialo a te Senza vergogna, senza vergogna, senza vergogna, gli occhi alzerai Ritorna a casa, tardi non è Lascia il tuo cuore, lascia il tuo cuore, così come sei Così come sei Così come sei Siamo arrivati quasi alla fine di questo evento Sentiremo ancora un paio di canti Desideravo condividere con voi un pensiero Una riflessione che ho fatto qualche In questo periodo Sul significato dell'arcobaleno Quello che ho sentito in cuore di chiamare l'arcobaleno di Dio L'arcobaleno che nella nostra società, nel mondo Viene tirato per slogan politici o sociali o altre cose Ma l'arcobaleno che nasce nella Bibbia Lo troviamo nel libro della Genesi Come un dono di Dio all'umanità Un segno Che Dio lascia all'umanità Che ci porta, non so se succede anche a voi Ad alzare sempre lo sguardo verso il cielo Quando appare Un segno Che viene Risplende Dopo una tempesta Dopo Una burrasca E sapete in quel periodo Quando Dio donò all'umanità l'arcobaleno C'era stata la più grande tempesta Della storia dell'umanità Purtroppo pochi libri di storia raccontano questo episodio Ma la Bibbia dice che ci fu Un tempo in cui il mondo intero fu devastato Da una tempesta mondiale Che la Bibbia chiama diluvio Una tempesta che è venuta come un giudizio Su un mondo incredulo Malvagio Violento Un mondo che Manifestava odio Come è stato detto all'inizio Dal nostro sindaco Quanto vediamo attorno a noi In una società dove tutto si sta Disfacendo E In quella tempesta mondiale C'era Un uomo C'era una famiglia Che diedero Che videro Da parte di Dio Il cambiamento Della loro società Che videro Alla fine di quella tempesta Risplendere Nel cielo Il segno Dell'arcobaleno Vi leggo Alcuni versi Poi Dio parlò A Noè E ai suoi figli Con lui Dicendo Quanto a me Io Stabilisco Il mio patto Con voi Con i vostri discendenti Dopo di voi E con tutti gli esseri viventi Che sono con voi Io stabilisco il mio patto Con voi Nessun essere vivente Sarà più sterminato Dalle acque del diluvio E non ci sarà più diluvio Per distruggere la terra Dio disse Dio disse ecco il segno Del patto Che io faccio Fra me E voi E tutti Gli esseri viventi Che sono con voi Per tutte Le generazioni future Io pongo Il mio arco Sulla nuvola E servirà di segno Del patto Fra me E la terra A me Quando pensiamo All'arcobaleno Come è stato Più volte ripetuto Ci parla di speranza Ma una speranza Certa Sicura Perché è stata Donata Dal creatore Dell'universo Da colui Che ha fatto Il cielo E la terra Una speranza Offerta A chiunque Attraverso Un patto Pensate Questo arcobaleno Quando risplende Quando i nostri figli In macchina Ci fanno girare E noi dobbiamo Fare attenzione A non farlo Mentre guidiamo Papà Mamma Guardate in cielo L'arcobaleno Ci ricorda Che Dio Offre Un patto A chiunque Chiunque Su questa terra Può alzare Lo sguardo E guardare Quel segno Chiunque Senza Distinzione Senza Nessuna Discriminazione Senza Senza Possibilità Di sentirsi Rifiutato Può alzare Lo sguardo E guardare A quel segno E ricordare Che Dio Offre Un patto E questo patto È offerto A chiunque In una notte Terribile Non una bella Serata Come stasera La notte Del tradimento Di Gesù 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 Disse Questo È il nuovo Patto Nel mio Sangue Un tempo Dio Ha donato All'umanità Un arco Un arcobaleno Meraviglioso Meraviglioso Lassù Nel cielo Che può Spuntare Sopra La tua Vita Anche in mezzo Alla tempesta Più dura Che attraversi Ma la Bibbia Dice che Quando giunse La pienezza Dei tempi Della nostra Dio Mandò Suo figlio Poiché Dio ha tanto Amato il mondo Che ha dato Il suo Unigenito Figlio Affinché Chiunque 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 Crede In Lui Non perisca Ma abbia Vita Eterna C'è un nuovo Patto Ancora Più Certo Sigillato Col sangue Del figlio Di Dio Questo Patto È offerto A chiunque Puoi sentirti Indegno E puoi Come me Esserlo Veramente Ma questo Patto È anche Per te È un Patto Che Gesù Offrendo La sua vita Offre anche A te Un patto Che come L'arcobaleno Sovrasta Chiunque Desidera Ricoverarsi Proteggersi Sotto Puoi Vivere La vita Come I contemporanei Dei Noè Noè Dice la Bibbia Avvertito Da Dio Iniziò A costruire Un'arca Per la salvezza Della sua famiglia E passarono Tanti anni E Noè Costruiva Un'arca Dove non c'era Acqua Dove non c'era Nessuna Percezione Che fosse Arrivato Qualcosa Di devastante Uno tsunami Mondiale Eppure Eppure Noè Noè Avvertito Da Dio Costruì Un'arca E mentre Costruiva L'arca Dice La Bibbia Che Noè Predicava Alla sua Generazione E probabilmente Parlava L'arca Che Dio Mi ha dato Di costruire E' così Grande Che puoi Entrare Anche tu Puoi Entrare La tua Famiglia Possono Entrare Le persone Che ami Puoi Credere Puoi Trovare Protezione In Dio Ma Noè Venne Deriso In quegli anni Poi Quando All'improvviso Arrivò Quello tsunami Le cose Cambiarono E allora Caro amico O cara Amica Non importa Quello Che siamo Stati Quello Che abbiamo Commesso Magari La vita Onesta Che abbiamo Fatto Tranquilla Serena Ma Perfettamente Disinteressata Di Dio Perché io Credo Che un giorno Dio Non ci dirà Cosa abbiamo Fatto Non fatto Non peserà Le nostre Buone opere Le nostre Buone azioni Forse i crimini Che qualcuno Di noi Ha commesso E i peccati Che tutti Noi Abbiamo Commesso Ma Dio Dirà Ciascuno Di noi Personalmente Io ho Dato mio Figlio Il mio Unico A morire Per te Per offrirti Un patto Cosa Ne hai Fatto Che importanza Ne hai Dato Nella tua Vita All'improvviso Verrà come Uno tsunami Delle volte Come abbiamo Sentito Nelle testimonianze Lo tsunami Arriva Su Una persona Su una famiglia Chissà Forse Su una società Ma Siamo qui Questa sera Per dirti Che quel Dio Che in quella Generazione Lontana Ha donato All'umanità Un segno Di un patto Quel Dio Che è più vicino A noi Ha donato All'umanità Non solo Un segno Ma suo figlio Per stabilire Un nuovo patto Un patto Eterno Quel Dio Anche Questa sera Desidera Desidera Invitarti Ad accettare Quel patto A fare A fare una scelta Noè Fece Una scelta Ciascuno Di noi Molti di noi Che siamo qui Abbiamo fatto Una scelta Abbiamo rinunciato Al male Al male Che c'era Nella nostra vita All'indifferenza Al vuoto Di Dio Che c'era E siamo entrati Nel patto Siamo entrati Sotto la protezione Di Dio Questo patto È un patto Eterno Non vale Solo per questi Quattro Cinque giorni Speriamo anche Un po' di più Che vivremo Su questa terra Ma vale Per l'eternità È un patto Eterno E non importa Se sei giovane Se sei anziano Se sei sano E ammalato Dio ti offre Un patto Perché Dio ha offerto Suo figlio Per te Il tuo valore Quando ti guardi Allo specchio Non dipende Da quello che hai Da quello che credi Di essere Ma dal valore Che Dio Ha dato Per te Per la tua anima Dio Ha offerto Il suo Unigenito figlio Per offrirti Un patto Il prossimo canto È intitolato Rompi Il silenzio Se non sai farlo Qui Questa sera Quando torni a casa Come Gesù insegna Nella tua cameretta Rompi Rompi il silenzio Forse di tanti anni Forse di una vita Per qualcuno E rivolgiti a Dio Invoca il nome Di Gesù E chiedi Signore Voglio entrare Nel tuo patto Voglio che L'arcobaleno Di Dio Non quello Degli uomini Che offre Una speranza Incerta Ma l'arcobaleno Di Dio Possa risplendere Sopra la mia vita Che Dio ti benedica Ma l'arcobaleno Sono Gesù Colui che Sopportò Ed è capace Di sopportare Il dolore Di un tempo Di una prova Che sembrano Fili Son colui Che vede Al di là Della prova Un miracolo Vedrai Anche se il mondo Dice che Non ce la farai Sono io Colui che Ti dà La forza Non ti allende Le mai Non ti ho fatto Arrivare Fino a qui Per rinunciar Rompi In silenzio Alza la tua Tua voce A Dio Oggi C'è il siano Prende Il sentire Il tuo Guido Non importa Il tempo Io ti ho Promesso Che Il tuo Dolore Finirà Una nuova Storia Per te Ho scritto Sì Io Sì Io Rompi il silenzio, alza la tua voce a Dio, oggi il cielo si apre nel sentire il tuo grimo. Non importa il tempo, io ti ho promesso che il tuo dolore finirà, una nuova storia per te ho scritto. In questa terra di afflizione io ti farò prosperare, dal dolore e umiliazione continua a lottare. Io ti ho dato una fede che nessuno può fermare, rompi il silenzio, vale la pena aspettare. Rompi il silenzio, alza la tua voce a Dio, oggi il cielo si apre nel sentire il tuo grimo. Non importa il tempo, io ti ho promesso che il tuo dolore finirà. Rompi il silenzio, alza la tua voce a Dio, oggi il cielo si apre nel sentire il tuo grimo. Rompi il silenzio, alza la tua voce a Dio, oggi il tuo dolore finirà. Una nuova storia per te ho scritto. Una nuova storia per te ho scritto. Concluderanno con l'inno evangelico più conosciuto nella storia, Amazing Grace, meravigliosa grazia. Prima di concludere do anche un saluto ai cari che ci stanno seguendo nella diretta streaming. Volevo intanto ringraziare tutti voi che avete voluto passare queste due ore con noi. All'uscita, se desiderate, al gazebo, lì all'ingresso potete ritirare qualcosa in dono che vi verrà donata. Se avete desiderio una volta di venirci a trovare siamo qui a Tiene, via San Massimiliano Colbe. Prima di sentire l'ultimo canto e quindi con questo ultimo canto salutarci, desidero chiedervi, se lo desiderate, di alzarvi in piedi. Come ci invita questo canto che abbiamo ascoltato, rompi il silenzio, alzare una preghiera a Dio. Abbiamo parlato oggi, sentito parlare di sofferenza, di dolore, di malattia, ma abbiamo anche soprattutto sentito parlare di speranza. Abbiamo sentito soprattutto, siamo stati tutti perché tutti, guardate tutti quelli che cantano, tutti noi. Sì, attraversiamo momenti dove il capo si fa pesante e ci verrebbe da guardare in basso. Ma Gesù ci offre una speranza da poter alzare lo sguardo verso il cielo. A me, alleluia, e per questo desidero rivolgere a Dio una preghiera. Padre d'amore, Padre nostro, Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore per il dono che tu ci hai dato, Signore. Un dono ancora più grande dell'arcobaleno, Signore. Tu ci hai offerto il tuo figlio, Gesù, che risplende ancora di più dell'arcobaleno. Che è ancora, Signore, più sicuro per ciascuno di noi. Voglio pregarti, Signore, che chiunque, Signore, ha udito questa sera questo invito che viene dalla tua parola possa nel suo cuore accoglierlo, Signore, possa entrare nel patto con te, Signore. Un patto al quale tu non verrai mai meno. Possiamo noi testimoniare che alcune volte siamo venuti meno. Ma tu sei rimasto fedele, Signore, e ci hai rialzato, ci hai dato speranza di riprendere il cammino. Signore Santo, ti preghiamo per la città di Tiene, Signore, per la nostra società, Signore, per le famiglie, Signore, che sono nel dolore, Signore, e nell'abbattimento, forse nella sofferenza, che tu possa intervenire, Signore, come solo tu puoi fare e vuoi fare, Signore. Dove ti viene aperta la porta, tu certamente entrerai, Signore, col tuo amore, con la tua grazia, con la tua speranza. Bene dici, Signore, ognuno di questi cari che sono qui questa sera. Tu conosci il bisogno del cuore che noi non conosciamo. Signore, rispondi al grido e alla preghiera silenziosa. Te lo chiedo e te lo chiediamo nel nome unico di Cristo Gesù, il Signore. Amen, amen. Dio ci benedica. Accomodatevi pure. Grazie. 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 I was blind, but now I see. 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 I see.